carissimi amici di regina della pace tv la gioia dei santi rimanga sempre nei vostri cuori oggi 22 agosto ricorre la regalità di maria l'11 ottobre 1954 san pio xii esituì la festa della regalità di maria da celebrarsi ogni anno in tutto il mondo il giorno 31 maggio fu poi trasferita il 22 agosto giorno ottavo dell'assunzione per sottolineare il legame della regalità di maria con la sua glorificazione corporea con tale festa il papa ha voluto sigillare con la sua autorità la voce dei monumenti antichi delle preghiere liturgiche e il senso del popolo cristiano che attribuirono perennemente alla vergine la dignità regale il primo e più profondo motivo della dignità regale di maria consiste nella sua maternità divina poiché cristo per l'unione ipostatica è anche come uomo signore re di tutta la creazione così maria la madre del signore partecipa benché in modo analogo alla dignità regale del suo figlio a buon diritto quindi san giovanni damasceno scrive maria è veramente diventata la signora di tutta la creazione nel momento in cui divenne madre del creatore e lo stesso arcangelo gabrile può dirsi l'araldo della dignità regale di maria la beatissima vergine e regina non soltanto come conseguenza della maternità divina ma anche per la parte singolare che per volontà di dio ebbe nell'opera della redenzione infatti da quest'unione con cristo deriva a lei tale splendore sublimità da superare l'eccellenza di tutte le cose create da questa stessa unione con cristo nasce quella regale potenza per cui ella può dispensare i tesori del regno del divino redentore infine dalla stessa unione con cristo a origine la inesauribile efficace della sua materna intercessione presso il figlio e presso il padre nessun dubbio pertanto che maria santissima abbia su tutto il primato dopo il suo figliolo se il mondo oggi lotta senza tregua per assicurare la pace l'invocazione del regno di maria e più efficace di tutti i mezzi terreni per ottenere questo scopo pertanto tutti i fedeli cristiani si sottomettono all'impero della vergine madre di dio la quale mentre dispone di un potere regale arde di un materno amore bene carissimi per oggi terminiamo qui il nostro quotidiano appuntamento pace e gioia a tutti voi pace e gioia a tutti